Val di Fiemme 2013, un altro anno, per la terza volta la Val di Fiemme ospiterà i campionati del mondo di sci nordico. La federazione internazionale è sempre disposta a dare gare di Coppa del Mondo e Mondiali alla Val di Fiemme in quanto gli impianti sono al più alto livello possibile nel mondo. Stadio del Salto rinnovato è bellissimo e tecnicamente è molto difficile, quindi le gare saranno ad altissimo livello. Lo stadio del fondo di Lago di Tesero, rinnovato anche quello, si presenta come una delle piste da fondo più tecniche e difficili del mondo.